E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, vi invito ad iscrivervi, mi raccomando iscrivetevi e condividete questo video con tutti i tifosi che conoscete, che seguiamo le vicende di calciomercato, gli affari, le trattative, sentenziamo, anzi in tal proposito vi invito ad attivare il campanaccio, il campanello delle notifiche perché giovedì sera alle ore 21 torna la calciomercato live, faremo una live sul calciomercato di tutte le scuole e squadre di tutte le situazioni della Serie A risponderò alle vostre domande, quindi giovedì sera ore 21, save the date come dicono i bagliazzi e vi invito a seguire anche Surfasport, mi raccomando una pagina di grande qualità sul calcio, sugli altri sport, grafiche bellissime, notizie assolutamente interessanti, imperdibili, seguite tutti Surfasport su Instagram e seguite anche me su Instagram e su Twitter. Allora quest'oggi voglio parlare della vicenda che sta un po' tenendo banco nelle stanze del calciomercato in queste ore, cioè la possibilità che Cialanoglu vada all'Inter e che il Milan si cauteli sostituendolo con Zacca, niente al proposito si parla anche di un inserimento da parte del Milan nella trattativa col Verona di Conti e Caldara. Ma allora io devo dire che è una trattativa che non mi fomenta molto, sulla quale non è che concordo, è una cosa che non mi piace e a mio avviso neanche sa da fare e vi spiego anche perché. Allora purtroppo c'è stata questa situazione di Eriksen che probabilmente impone all'Inter di andare alla ricerca di un nuovo profilo a centrocampo, anche se io penso che Sensi possa fare bene. Nel senso io con l'arrivo di Simone Inzaghi su Sensi punterei molto perché credo che Sensi soffrisse anche un po' quelli che erano i carichi atletici, le richieste che in un gioco di Conte vengono fatte ai centrocampisti. Probabilmente Sensi con un lavoro fisico diverso, con dei compiti diversi che Simone Inzaghi gli può dare, può veramente diventare l'uomo in più dell'Inter. Quindi io su Sensi punterei assolutamente all'interno di questo tipo di dinamiche. E poi devo dire che Cialanoglu onestamente è un giocatore che da che è arrivato in Italia non mi fomenta, è un giocatore che non trovo neanche adatto a quello che è il campionato italiano, a quelli che sono i ritmi del campionato italiano, a quello che è richiesto ad un giocatore nel campionato italiano. Con questo non sto dicendo che non abbia qualità, è un giocatore che volendo ha delle grandi qualità tecniche, però è abbastanza discontinuo e ripeto non vedo una grande capacità di adattamento e di essersi adattato al campionato italiano. Poi se è vero che gli si offrono 4 milioni e mezzo o addirittura 5 milioni a stagione per firmare con l'Inter per me è una cifra abbastanza elevata. Capisco l'opportunità di andarlo a prendere a zero e quindi caricare tra virgolette sullo stipendio o comunque diciamo risparmiare sul cartellino per poi caricare sull'ingaggio che è una cosa che molte squadre fanno per evitare magari di sobbarcarsi il costo del cartellino, però non è un'operazione che mi entusiasma. Non è un'operazione che mi entusiasma, non è un profilo col quale andrei a rinforzarli l'Inter, non è un profilo che mi vedo molto all'Inter. Anche il discorso di Zaccagni al Milan non mi gasa tantissimo perché il Milan fa un 4-2-3-1 e Zaccagni nel 4-2-3-1, devo essere onesto, è un giocatore che reputo abbastanza sprecato. Perché Zaccagni non è un mero trequartista, Zaccagni ha delle doti fisiche, ha delle doti di recupero palla che possono essere utilissime anche giocando da trequartista, però sarebbe sprecato, così come sarebbe sprecato metterlo nei due di centrocampo levandogli o comunque riducendo molto quella visione sulla porta che invece avrebbe in uno schema a tre centrocampisti, che è quello in cui lui per me deve fare il salto di qualità della sua carriera, deve fare il salto di qualità della sua carriera. Il 3-4-2-1 del Verona in questo senso con Iuri c'era un discorso diverso perché il Verona era una squadra comunque che agiva a tutto campo, i due trequartisti agivano spesso anche con compiti da centrocampista, al Milan sarebbe un discorso diverso. Nel 4-2-3-1 il trequartista è più una specie di attaccante barra rifinitore che non un centrocampista aggiunto, un centrocampista avanzato. Quindi Zaccagni nel 4-2-3-1 non è che mi fomenti moltissimo. Diverso il discorso se il Milan volesse, sarebbe anche il caso visto i problemi avuti con Tonali, se riscatti Tonali diverso sarebbe il discorso se tu optassi per un 4-3-1-2. Che allora ecco mi pigli Zaccagni, mi ripigli Tonali, ecco che diventa interessante farlo, ma dubito che Pioli abbia in testa questo visto che è andato avanti per tutto l'anno con il 4-2-3-1 e penso che l'idea sia quella di continuare con questo schema, no? Visti anche i nomi di cui si parla per l'attacco. Quindi sono due operazioni onestamente che non è che mi facciano impazzire. Il Milan dovesse perdere Cialanoglu anche lì, per carità, per quella che è l'inerzia, per come è andato avanti l'anno, per il secondo posto che hai ottenuto, nel possibile cercherei anch'io di rinnovare Cialanoglu, perché comunque i suoi colpi li ha, perché penso che nell'economia anche dello spogliatoio, della squadra, possa essere un giocatore utile che è lì a Milano ormai da diversi anni. Quindi nel possibile, nel possibile cercherei di rinnovare Cialanoglu al Milan. Ma qualora questo non fosse possibile, non andrei troppo a dannarmi l'anima e onestamente se fossi nell'Inter cercherei altri profili, anzi vi dico di più. Sarebbe molto meglio vedere Zaccagni all'Inter, piuttosto. Ecco che se l'Inter mi va su Zaccagni, fa un'operazione intelligente, fa un acquisto intelligente, così come dovesse andare ancora meglio magari, ancora meglio su un Nandez, su un Nandez, che è uno che ti può fare, come abbiamo detto, nel cattomercato che ho fatto relativo all'Inter, relativo al calciomercato dell'Inter. Nandez all'Inter ci starebbe alla grande, anche perché ha fatto negli ultimi mesi a Cagliari, ha giocato anche come ala addirittura, ha giocato anche come esterno a tutto campo, quindi in caso di emergenza un Nandez sarebbe l'ideale. Ma paradossalmente, vi ripeto, Zaccagni per l'Inter sarebbe meglio, meglio dello stesso Celanoglu. Potresti fargli fare le stesse cose anche che chiedi a Celanoglu. Potrebbe essere quel centrocampista, anche nel caso da far avanzare in certe azioni. È un giocatore adatto all'Inter. Era adatto soprattutto a Conte. Io Zaccagni con Conte ce l'avrei visto veramente bene, ma sarebbe adattissimo anche con Simone Inzaghi, perché lo schema resta lo stesso. Quindi questo discorso di Celanoglu a livello di opportunità non lo capisco molto, anche perché se sono vere le cifre che girano con uno stipendio che tu andresti a garantire di 4 milioni e mezzo, 5 milioni, mi sembra veramente un'esagerazione. Anche perché con tutto rispetto, per carità, il secondo posto, delle prestazioni interessanti, però non reputo il campionato appena trascorso, un campionato di livello così alto, fatto dallo stesso Celanoglu, atto a giustificare un aumento di stipendio di questo tipo. Quindi è un'operazione che non mi gaggia. Se devo identificare una squadra, guardate, in cui Celanoglu vedrei bene Celanoglu in Italia, a posto che, come ho avuto modo di dire, non lo reputo un calciatore adatto al campionato italiano. Ma se devo trovare una squadra in cui potrei vedercelo, in cui non mi dispiacerebbe vederlo, è la Juventus, perché la Juve ha una serie di problemi a centrocampo, in cui paradossalmente, aggiungendo anche l'equivoco tattico di Celanoglu, Celanoglu, potresti creare delle alchimie, delle situazioni interessanti, potresti magari schierarlo veramente come trequartista in un 4-3-1-2, potresti alternarlo con Dybala, potresti creare una sinergia con Dybala, potresti giocare con i due trequartisti e davanti una punta sola. Però all'Inter Celanoglu, onestamente, non me lo vedo molto. Celanoglu all'Inter, ecco, è un'operazione che non farei. E' un'operazione che non farei, non mi inserirei in questa trattativa, anche perché la convenienza è tutta da valutare. Risparmi sul cartellino, sì, ok, ma poi ti accogli uno stipendio di 4 milioni e mezzo, 5 milioni, metti caso che Celanoglu all'Inter non renda, o renda come al Milan, che è sempre sul Kybala, e rischi di aggiungere un altro superingaggio, come è successo per tanti giocatori che adesso sono ai margini della rosa dell'Inter, rischi di aggiungere un altro superingaggio che poi magari fai fatica a smaltire negli anni a venire, no? E per quel che riguarda il Milan, Zaccagni non è un profilo che mi vedo molto bene per una questione tattica, per una questione di schemistica, per una questione di opportunità. Zaccagni in un 4-2-3-1 viene semplicemente tagliato in due e non è neanche il caso di farlo. Poi nei prossimi giorni farò altri video inerenti anche al calciomercato dell'Inter perché mi piacerebbe dare una lista di quelli che sono i possibili sostituti di Lautarlo Martínez, e ne ho uno assolutamente che signori vi farà esplodere, va bene? Però questa è un'altra storia. Iscrivetevi, condividete, fate iscrivere, un caro saluto. Grazie. Grazie.